Sono 16 le piante che l'opera delle mura sta abbattendo lungo la circonvallazione. Si tratta di esemplari molto malati e classificati ad alto rischio crollo, le cui condizioni erano emerse durante il check-up effettuato nei mesi scorsi su circa 80 piante presenti lungo la circonvallazione. Una situazione determinata sia dall'età degli esemplari, sia dal fatto che in passato sono stati oggetto di interventi di potatura errati. 30-40 anni fa hanno avuto degli interventi che poi nel tempo si sono rivelati essere pericolosi e hanno danneggiato sostanzialmente la struttura delle piante. Noi abbiamo un patrimonio alborio nella città enorme, interverremo sicuramente su tutte le situazioni più a rischio, ma questo non vuol dire che anche molte altre siano da monitorare e continuamente monitorate. E a fronte dei problemi legati alla sicurezza, l'abbattimento delle piante malate ha anche dei costi notevoli. Si parla infatti di circa 4.000 euro per ogni pianta, e questo non tanto per il taglio, quanto per lo smaltimento del legno residuo, senza contare che, secondo la normativa fitosanitaria, in caso di malattie come ad esempio il cancro rosso del platano, vanno abbattute anche le piante sane nel raggio di 5 metri da quello malato. Una problematica seria, specialmente per quanto riguarda Viale Carlo del Prete, dove le piante sono molto vicine tra loro, è che l'opera delle mura sta monitorando con particolare attenzione.